Bene, buonasera a tutti. Come al solito, grazie infinite per chi mi ha invitato, sia la professoressa Zavaccero, sia anche il professor Ghia, con il quale appunto ho avuto il piacere, sia pure un po' melanconico, di rivedere qualche anno importante della nostra vita accademica e di formazione. Naturalmente sono molto contento di essere qui. Spero di fare una cosa utile e soprattutto di provare a offrirvi un esempio, spero plausibile e anche interessante per voi, di quello che dovrebbe essere un po' il fine, la finalità della storia della filosofia, della disciplina accademica, ma anche di ceale della storia della filosofia. Qual è questa finalità? La finalità è quella di, come alcuni studiosi hanno detto, deliberà, ma anche altri studiosi in Italia, di fluidificare i concetti, i concetti storiografici con i quali ci rapportiamo al passato, agli autori del passato e quindi anche di applicare una sorta di sospensione di epoche nei confronti di categorie storiografiche con le quali giudichiamo gli autori. E come diceva la professoressa Zavattero, l'esempio di Averroè, l'esempio della scuola veroistica, è un esempio notevole di quanto detto. Cioè, quello che vorrei invitare questa sera, ma naturalmente poi io ho questa tendenza a essere un po' anarchico e disordinato nelle esposizioni, quindi spero perlomeno di mettere qualche curiosità. Ecco, quello che vorrei fare questa sera è di invitarvi, così almeno a me è servito molto, come dire, a indossare le lenti di un filosofo ebreo del XIV secolo, della prima unità del XIV secolo, che legge un autore arabo, Ibn Rushd, Averroè, vissuto circa 150 anni prima di lui, il quale a sua volta, Averroè, legge altri autori, a partire innanzitutto da Aristotele, ma poi anche da un'altra serie di commentatori tardoantichi e anche da un autore arabo, che perlomeno è della prima unità del X secolo. Quindi vedete c'è un gioco complicato, ma anche molto interessante, di specchi. Borges ne fa il tema dello specchio e proprio a indicare questi riflessi infiniti. C'è quel racconto, la ricerca di Averroè, dove poi alla fine Averroè perde la sua identità, proprio perché deve capire un passo di Aristotele, di cui non ha presente il significato di termini greci, alla fine c'è questo gioco continuo di specchi. E quindi è un po' quello che vorrei fare questa sera. Dunque, come diceva anche la professoressa Irene, il tema della felicità mentale è un tema fondamentale, è un tema fondamentale nella storia della tradizione filosofica, a partire da Platone, e poi soprattutto di Aristotele, ed è un tema fondamentale di quella che potremmo chiamare la scuola averroistica. E intendo per averroismo non il significato latino del termine, ma una tradizione di pensiero che direi può andare fino a Spinoza. Ultimamente c'è questa tendenza a inserire Spinoza nell'alveo della tradizione di Averroè, anziché, o non soltanto in quella cartesiana, che trovo convincente. E quindi è un tema, questo, della felicità mentale, che è davvero un filo rosso, che unisce la filosofia in quanto tale. Tanto più quando la filosofia, la cosiddetta Atene, è stata poi, si è insediata sia nelle terre musulmane, sia anche in quelle ebraiche, questo tema della felicità mentale è rimasto distintivo. Quindi, per riprendere anche i temi che sono stati già introdotti, io penso che, almeno così mi è perso di poter cogliere da questo lavoro di Gersonide, sulla base di questa pratica interpretativa di Gersonide, che, come è stato detto, è un filosofo ebreo provenzale, vissuto circa cento, centocinquant'anni dopo Averroè. Ecco, sulla base di questo commento, noi possiamo dire che, almeno mi sembra significativo, dire che Averroè non è un Averroista. e così volevo anche anticipare un po' i... questo naturalmente sto presentando acqua fredda, lo si sa da molto, ma l'importante è che anche la tradizione ebraica confermi questo dato. E metto subito sul tappeto quello che mi è perso essere l'importanza di questo commento di Gersonide. Allora, innanzitutto, è un commento a opere particolari di Averroè, che venivano usate perché sono estremamente sintetiche. E vengono chiamate queste opere che lui commenta, opuscoli, nella tradizione ebraica vengono disegnate col termine Igeret, Igerot, opuscoli, lettere, l'equivalente dell'arabo risala. E quindi sono tre lavori in cui Averroè e il figlio cercano di restituire il senso del percorso, il senso del percorso che lui Averroè o il padre ha fatto. Quindi sono testi brevi rispetto alle varie tipologie dei commenti al De Anima, perché è chiaro che il testo aristotelico di riferimento è il De Anima. Questi testi sono meno legati all'articolazione del testo di Aristotele, un po' come nell'epitomi di Averroè, dove non c'è un commento, ci sono le indicazioni dei temi fondamentali. E quindi allora, la cosa interessante è che due di queste lettere o di questi opuscoli sono stati scritti da Averroè. Il terzo è stato scritto dal figlio, lo dice esplicitamente, io ho raccolto queste testimonianze orali dal mio padre e quindi c'è una sorta di Averroè orale, il quale non dice delle cose, a differenza di quello che accade, pare con il Platone orale, non dice delle cose sconvolgenti rispetto a quello che si conosce, ma la lettera che il figlio compone sulla base di questi insegnamenti orali ci restituisce una fase particolare dell'insegnamento del padre. E quindi, fra l'altro, questa cosa del figlio di Averroè è l'unico dei tre opuscoli di cui si conserva sia il testo arabo sia la traduzione latina medioevale. Gli altri due che vengono indicati nella storiografia filosofica come opuscolo 1 e opuscolo 2, evidentemente, sono conservati solo in tradizione ebraica. Quindi, qui anche è noto, c'è la particolarità di questa trasmissione dei testi di Averroè, di cui esistono pochi originari arabi e molto è conservato nella tradizione ebraica. Quindi, Gersonide si trova di fronte a queste operette che già nel mondo ebraico hanno una loro trasmissione particolare, nel senso che, vedete, uno poi davvero si perde come la vero è di Borges, nel senso che sono stati tradotti, pare, all'inizio del 1200. Quindi, appunto, sono stati tradotti da un traduttore importante che è colui che ha fatto la traduzione in ebraico della guida dei perplessi di Maimonide, si chiamava Shmuel Ibn Atibbonne, e sono stati inseriti all'interno di un suo, di Shmuel, di Samuele, commento all'Ecclesiaste. Quindi, come nella letteratura occidentale, c'è questa pratica, evidentemente, di una lettura filosofica, allegorica, dei testi della Bibbia, dei testi della Torah orale. Quindi, questo filosofo di scuola Maimonidea, che traduce la guida dei perplessi, inserisce queste tre lettere, e quindi la trasmissione del mondo ebraico è viaggiata su questo binario. A un certo punto si presentano separati rispetto al testo di Shmuel, che è stato il suo traduttore. E quindi, la cosa anche significativa, scusate, poi faccio vedere delle slide, perché mi rendo conto che è molto meglio avere un testo di riferimento, ma, ad esempio, è significativo che non si conosce bene il titolo di questi opuscoli, cioè nella tradizione ebraica non hanno un titolo, se non un titolo molto generico, un discorso di suo figlio, cioè di Yvne Rusht, su questa questione, un altro discorso su questo problema. Quindi, poi, il titolo è stato dato, ad esempio, nella tradizione latina rinascimentale, perché, se voi prendete il famoso Averroè latino dell'edizione giunta del 1500, compare il primo di questi tre opuscoli, intitolato Epistula Deconnexione Intellectus Abstracti Humomine, cioè una lettera sul collegamento, sulla connessione dell'intelletto astratto, qui significa separato, non nel senso di astrazione conoscitiva, con l'uomo. Quindi, questo potrebbe essere un titolo, ma è un titolo così ipotetico, fra l'altro, possono essere letti sia come opuscoli sulla connessione dell'intelletto materiale con l'intelletto agente, ma anche viceversa, cioè la connessione dell'intelletto agente con l'intelletto materiale. È chiaro che la connessione ha sempre due dati, e quindi, insomma, per farla breve, cosa succede in questi tre opuscoli? E soprattutto perché è interessante, perché per me è molto interessante aver visto il commento di Gersonide. Il commento di Gersonide è il manoscritto, ma sono testi anche non molto lunghi. Ecco, perché è significativo? Innanzitutto, a livello di Ibn Rushd, questi due opuscoli, lasciamo stare quello del figlio, sono significativi perché sono stati scritti in epoche diverse e rappresentano fasi diverse della concezione di Averroè. Poi vedremo una slide su quelli che sono gli stadi di evoluzione del pensiero di Averroè sull'intelletto materiale. Quindi, rappresentano due stadi diversi. Cosa succede? Succede che, normalmente, gli studiosi che si sono occupati della ricezione ebraica di Averroè hanno sempre detto che il mondo ebraico medioevale non ha conosciuto la fase più radicale del pensiero di Ibn Rushd, cioè quella che è espressa nel commento tradotto da Michele Scoto, il commento grande, sto dicendo, il commento grande tradotto da Michele Scoto, e che ha dato poi vita anche a tutte le polemiche contro gli Averroisti, a partire, adesso io qui non voglio parlare di cose che non conosco, conosco male, ma se uno prende il famoso opuscolo di Tommaso d'Aquino contro gli Averroisti, è noto, arcinoto, che la tesi lì è quella dell'unicità dell'intelletto materiale. Unicità e eternità, quindi apriti cielo, ma com'è possibile se così dice Tommaso, costui è un pervertitore della filosofia aristotelica, è un pessimus aristotelico, perché sottrae la responsabilità morale, non c'è più una sostanzialità dell'anima immortale. Quindi quella è la tese più radicale. E gli studiosi della ricezione ebraica dicono, i filosofi ebrei del Medioevo non hanno conosciuto questa tesi, la tesi del commento grande della traduzione latina, perché appunto non è esistita, fino, pare, alla fine del Quattrocento, una traduzione del commento grande, che fra l'altro è una traduzione dal latino ebraico. Quindi la tesi è che fondamentalmente i filosofi ebrei medievali, fino, diciamo, al 1300, avrebbero conosciuto solo due fasi, le prime due, dell'evoluzione di Ibn Rushd sull'intelletto materiale. Quali sono queste due fasi? Sono quelle che trovano espressione nella prima e nella seconda tipologia dei commenti di Averroè al De Anima, cioè l'epitome, l'epitome, la sintesi, e il commento mio. Allora, quello che mi pare che si possa dire, anche sulla base di questi opuscoli, scusate, di questo commento di Gersoni dagli opuscoli, è che in realtà questa non è una rappresentazione realistica, cioè in realtà il bello di questi opuscoli è che uno di essi contiene una tesi molto vicina all'unicità dell'intelletto materiale che viene espresso nel commento grande. Quindi, la cosa significativa è che questi opuscoli e il commento di Gersoni ci permettono di vedere in maniera diversa il pensiero di Averroè. E qui faccio pubblicità, nel senso proprio letterale, Ubi Maior, faccio pubblicità a un libro che è uscito pochi mesi dopo il mio, e è un libro uscito nella collana che dirige la professoressa Zavattero di due studiosi importantissimi che sono Syrah, Colette Syrah e Marc Jouffrois. Perché è importante questo testo? Perché ci fa vedere in maniera diversa Averroè. Noi siamo forse troppo, come dire, portati ad vedere in Averroè un pensatore sistematico. Mentre dobbiamo tenere presente che se è vera la definizione che ne dà Dante, Averrois, il gran commentatore, lui era effettivamente un commentatore, cioè non pensava in termini sistematici. per cui anche questa benedetta tesi sull'unicità, sull'eternità dell'intelletto materiale si viene facendo in maniera progressiva. E allora tengo insieme le due cose, scusate. Volevo dire che il lavoro di Syrah e Jouffrois mostra come addirittura sia possibile ipotizzare con buone ragioni che in realtà il commento grande sia stato scritto prima di quello medio, mentre normalmente si aveva l'idea che i grandi, i commenti grandi, chiudessero la serie dei commenti. Ma questo perché? Perché abbiamo di fronte un pensiero di Averroè che è magmatico e io non sono sicuro, ma non essendo uno specialista di pensiero arabo la butto lì, questo mi è sembrato di vedere sulla base della ricezione ebraica, a me sembra che in realtà la tesi dell'unicità ed eternità dell'intelletto materiale del commento grande conviva, coesista all'interno dello stesso commento grande nella traduzione latina con altre posizioni che sono invece più vicine a quelle del commento medio e quali sarebbero queste posizioni? Sono quelle per cui nel commento grande in uno dei commenti, adesso se ricordo bene dovrebbe essere il commento 20, Averroè dice l'intelletto agente, l'intelletto potenziale sono due facce di una stessa medaglia, chiaro che non usa il termine poco filosofico di medaglia, ma lui dice sono sotto un certo punto di vista un unico ente e sotto un altro sono due cose diverse. Quindi quello che voglio dire è che dobbiamo stare attenti a non indossare solo le lenti di Tommaso d'Aquino o della ricezione latina quando guardiamo questi testi. La cosa è risaputa, no? secondo me questi commenti di Gersonide dimostrano come commentando Opuscolo 1 lui, Gersonide, avesse l'idea e lo dice che Aristotele, sì Aristotele, Averroè ha cambiato idea rispetto al commento medio. cioè lui dice a un certo punto che in Opuscolo 1 Averroè presenta una posizione in cui difende uno dei commentatori antichi che è Temistio. Ora, Temistio è un pensatore eterno antico a cui Averroè si avvicina nel commento medio. La pratica a scuola mi dice che è buona pratica chiedere se ci sono se ho sproloquiato nel senso se ci sono delle cose da riprendere mi rendo conto che insomma sono cose tanto più a quest'ora anche anche da casa com'è? Quindi procedo quasi come un cararmato va bene di piccole dimensioni quelle italiane della guerra contro i sovietici dunque allora io direi a questo punto troviamo a condivido questo esatto è vero neanche non l'avessi mai fatto allora non spaventatevi sono 15 non le facciamo tutte cerco solo di 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 indicare quelle più 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 significative e qui avevo avevo presentato così aspettate che chiudo un attimo perché non riesco avevo presentato i dati più significativi io riprenderei soltanto questo il fatto che il pensiero di Gersonide qui partiamo appunto dal commentatore dal filosofo ebreo si inserisce in una ondata di traduzioni imponenti dall'arabo all'ebraico quindi noi dobbiamo tenere presente che la filosofia ebraica con il 1300 1200 1300 si trasferisce dalla Spagna dal mondo arabo arabo ebraico spagnolo del Maghreb e va poi in Provenza quindi Gersonide è rappresentante di questa svolta e soprattutto è significativa l'ondata di traduzioni di commenti di Averroè di cui lui può disporre lui pare che non conoscesse benissimo l'arabo a differenza di Maimonide che anzi si esprimeva scriveva in giudeo-arabo e quindi questa cosa qui è significativa tra l'altro in Italia c'è stato uno studioso eccezionale su questo movimento su questi movimenti di traduzioni che Mauro Zonta è scomparso precocemente e quindi sono temi che a lui erano molto cari può essere più significativo rappresentare questo tema della felicità mentale della congiunzione tra l'intelletto materiale e l'intelletto agente tenendo presente quelli che sono i testi aristotelici di riferimento e qui ho anche ho indicato delle frasi che ritornano sia nei commenti di Averroè sia anche negli opuscoli e quindi forse una delle più significative vabbè c'è il capitolo il paragrafo in cui come noto Aristotele parla dei due intelletti l'intelletto che sarebbe come la materia e l'intelletto che è come la luce che è in atto che poi diventano come noto quello potenziale e quello agente una frase simpatica che ritorna più volte è questa è tratta dal De Anima il paragrafo 7 cioè libro terzo sì esatto libro terzo paragrafo 7 se poi se poi è possibile che l'intelletto pensi qualcosa delle cose separate esso che non è separato dall'estensione sia da considerare più avanti quindi qui è il testo di Aristotele Aristotele promette di considerare se l'intelletto mentre è unito al corpo quindi è ancora individuato in un corpo è un intelletto materiale può pensare le cose separate chissà le intelligenze celesti gli arabi dicono le cose separate sono gli intelletti gli angeli e quindi qui dicono gli arabi a vero è più volte dice ecco la grande promessa mancata di Aristotele sia da considerare più avanti ma non ha fatto e quindi me ne assumo io dice a vero è il compito e questo appunto è significativo poi c'è questo testo che viene tenuto anche sempre presente Metafisica 12 in cui Aristotele identifica il testo molto noto Dio come attività di pensiero che pensa a se stesso ecco poi c'è una cosa le tre slide successive sono dedicate alla lo so che mia figlia quando ha visto queste slide che avevo già utilizzato anche mi dice non vanno bene nel senso sono troppo troppo dense hai ragione solo che così non sono forse efficaci e qui può essere interessante richiamare gli autori che avevo già iniziato a indicarvi cioè gli autori parlo antichi e arabi che vengono inseriti da veroè in questo gioco di problemi e poi anche naturalmente da veri arsonide questa cosa è simpaticissima la tesi dell'ultimo al farabi è una cosa che ricorre più volte anche negli opuscoli qui vi ho messo l'indicazione anche dei passi precisi in alcuni autori arabi si dice che al farabi questo questa figura da 90 della tradizione aristotelica araba vissuto nella prima metà del decimo secolo negli ultimi giorni nell'ultimo periodo della sua vita al farabi avrebbe detto che insomma la la congiunzione tra l'intelletto materiale e l'intelletto agente sono delle favole da donne vecchie da donnette e quindi apriti cielo ma come ci sono questi testi tratti da questo commento di al farabi all'etica nicomachea perduto esiste qualcosa in trasmissione ebraica e così però lo intende averlo la cosa significativa è probabilmente non lo interpreta in maniera corretta così come appunto Borges diceva quando Averroè doveva doveva capire cosa significano tragedie e commedia per Aristotele però per Averroè questa è la posizione scandalosa e gli studiosi che appunto affrontano questi temi dicono che è uno dei moventi fondamentali della posizione di Averroè cioè rispondere a questa negazione radicale di al farabi sarebbe bello anche magari così trovare un po' a capire perché al farabi nega questo potremmo dire così per banalizzare che è l'alfarabi esistenzialista cioè che nega che l'intelletto umano possa unirsi agli enti separati e quindi dice questo ultimo al farabi se è così non esiste altra felicità se non quella politica o quella speculativa anche qui bisognerebbe capire cosa significhi l'intelletto speculativo è l'intelletto che conosce le cose materiali quindi io posso conoscere secondo questa tesi di al farabi solo gli enti materiali ma non posso conoscere gli enti privi di materia l'intelligenza angelica e quindi non posso conoscere nemmeno l'intelletto angelico e quindi qui atriti c'è lo significa appunto una critica radicale della possibilità della felicità mentale a cui Averroè risponde e poi per andare indietro quindi dal più recente ai più antichi sono gli altri due autori che vi citavo Alessandro di Afrodisia e Temistio siamo nel pensiero tardoantico naturalmente qui dobbiamo registrare l'interpretazione che Averroè dà di questi autori e prendere atto del fatto che questi autori tardoantichi hanno avuto una trasmissione dei loro testi nel mondo arabo che non permetteva una costruzione filologica ma nei testi anche nel commento grande Alessandro di Afrodisia è la posizione che poi Averroè giudica materialistica cioè l'intelletto materiale è espressione legato al corpo l'intelletto materiale avrebbe come come suo sostrato un corpo quindi se è legato al corpo è individuale ma è destinato anche a perire ed è la tesi a cui si avvicina Averroè nella prima fase del suo pensiero e quindi in realtà io ho messo l'obiezione che poi Averroè fa nel commento grande alla tesi di Alessandro di Afrodisia ma Alessandro di Afrodisia legava l'intelletto materiale alla finitezza dell'uomo alla corporeità e alle forme immaginative anche qui bisognerebbe è chiaro che mi rendo conto che c'è tutto un linguaggio pesante ma insomma questi medievali sono comunque grandi basta solo magari cercare di avvicinarsi un po' a quello che volevano dire la tesi di Temistio è la tesi che afferma invece che l'intelletto materiale ha come suo sostrato come come sua sua base una sostanza spirituale che l'intelletto oggete quindi da una parte c'è la tesi della mortalità dall'altra parte c'è la tesi invece secondo cui già l'intelletto materiale fa parte delle sostanze separate perché ha come suo sostrato l'intelletto agente spiace insistere su queste cose ma secondo me è un'operazione che mi divertirei a fare è quello di accostare questa tematica di averloè dell'intelletto materiale dell'intelletto agente per esempio in Spinoza al tema dell'attributo pensiero perché anche in Spinoza c'è tutta una questione molto delicata l'attributo pensiero cioè l'attributo pensiero si divide poi in modi infiniti che sono immediati che sono immediati quindi insomma anche qui secondo me c'è ancora molto di questa tradizione dell'intelletto materiale nel pensiero di Spinoza e questo anche per dire che insomma il tema dell'intelletto materiale è davvero fondamentale perché come si è capito ne va della nostra sopravvivenza ne va anche della legittimità della filosofia cioè la filosofia in questo periodo si riesce a mostrare che è plausibile la tesi che l'intelletto materiale sia immortale ne guadagna anche in termini di autonomia altrimenti diventa o assoggettata alla rivelazione divina o assoggettata anche alla politica ma cosa dite un quarto d'ora poi anche per sentire se quindi sì sì certo e niente io direi ancora come allora cosa dite possiamo ancora leggere queste queste ultime anzi queste tre slide così anche poi concludiamo quindi in altre parole fasi evolutive della noetica di Averroè della dottrina dell'intelletto di Averroè secondo l'interpretazione tradizionale è quello che vi dicevo già all'inizio la tradizione ebraica di Gersonide secondo me aiuta a mettere in discussione a fluidificare questa interpretazione tradizionale e soprattutto come dicevo forse già prima a vedere questo Averroè che continuamente ripensa a giusta il tiro e quindi ecco secondo questa interpretazione tradizionale ci sarebbero tre fasi il libro che citavo prima di Geoffroy e di Syrah in realtà ci aiuterebbe anche a identificare una almeno una quarta fase cioè prima il ragionamento è questo prima della fase conclusiva che è documentata dalla traduzione latina del commento grande ci sarebbero questi questi tentativi di avvicinamento che da quello che ho capito ma qui naturalmente cedo la parola a chi studia anche con più sistematicità questi temi nel pensiero arabo se ho ben capito questa quarta tesi sarebbe molto temistiana cioè temistiana nel senso che naturalmente oltre a rifarsi a temistio nel senso che intelletto materiale e intelletto agente sarebbero la stessa cosa e quindi poiché uno è eterno è unico l'intelletto agente tale diventa anche l'intelletto materiale cioè temistio affermava così almeno che l'interpretazione di di Averoe che l'intelletto agente costituisce la nostra essenza profonda e quindi noi siamo già eterni grazie a questa partecipazione che abbiamo con l'intelletto agente e quindi penso che si possa dire che c'è questa fase prima di quella documentata dalla traduzione latina e fra l'altro la bellezza del libro che ho citato della Sirà e di Geoffroy sta nell'ampliare notevolmente il concetto di tradizione ebraica cioè loro prendono di tradizione ebraica di interpretazione di Averoe loro prendono alcuni autori di uno di essi mi sono occupato si chiamava Shem Tov Ibn Falachera un autore spagnolo provenzale della seconda metà del XIII secolo mettiamo 50-60 anni dopo Maimonide e lì la cosa interessante è che in un'opera manoscritta ma si legge facilmente scritta in carattere belli una scrittura italiana e sì e in una di queste opere manoscritte che è una grande enciclopedia di scienze filosofiche c'era come anche nella tradizione occidentale questo corpus di enciclopedie che erano costituite da citazioni di autori classici quindi questo Falachera prende a man bassa le opere di Averroè e le mette tutte insieme una cosa notevole cioè è una enciclopedia notevole è stata studiata proprio da Mauro Zonta e quando si occupa dell'anima quindi la dottrina dell'anima e in particolar modo dell'intelletto razionale lui cita nel libro ho identificato i testi di questa sezione del Sefer Deot cioè il libro delle opinioni dei filosofi di Falachera arrivo subito a quello che stavo per dire lui cita dice Amar Ben Rushd Be Ferusho che vuol dire scrive Ibn Rushd nel suo commento e Be Ferusho è senz'altro il commento grande perché c'è come in arabo una diversa terminologia per le tre tipologie pitomi commento medio grande allora la cosa interessante è che se uno prova a identificare i testi che vengono citati da Falachera e identificati da lui come appartenenti al commento grande non si trovano nella traduzione latina quindi cosa significa significa che di questa di questa di questa opera di Averroè circolavano più copie non abbiamo il tempo c'è il caso molto noto di di come le epitomi del Deanima le epitomi del Deanima circolassero ma è interessante pone dei problemi il fatto che il testo che Falachera cita e che identifica come commento grande non si trovi nel commento grande latino e c'è un testo che i due Geoffroy e Syrah traducono in francese fornendo anche l'edizione critica ci sono solo due manoscritti di questa enciclopedia ma c'è un testo molto lungo che Falachera cita identificandolo come commento grande e che non c'è nel testo latino del commento grande tradotto da Michael Descoto ed è significativo che è una tesi molto vicina a quella che lui Averroè propone nel commento medio quindi la cosa interessante è che parrebbe avere ragione uno studioso americano che dice guardate che noi dobbiamo capovolgere la tipologia la cronologia e pensare che prima del commento medio Aldeanima lui abbia scritto quello grande probabilmente in una redazione appunto diversa quindi la cosa significativa è questa allora io direi cosa cosa fa avevo detto che avrei letto questo slide e poi mi sembra anche più più interessante così affidarmi alla stanchezza quindi quello che viene lo butto lì no perché ci sono tante cose da dire è chiaro che bisognerebbe documentarle però la cosa significativa è questa concludiamo in questo modo ritorniamo adesso al nostro filosofo ebreo Levi di Ben Gershon costui era un ottimo studioso di Averroè è stato uno tra i primi che ha scritto i super commentari quindi i commenti ai commenti di Averroè e e quindi lui aveva una una conoscenza notevole di Averroè ora come dicevo forse già prima nel commento all'opuscolo 1 Gershonide capisce che lo schema interpretativo che lui Gershonide aveva usato quando aveva commentato Gershonide l'epitome al De Anima cioè quindi c'è un super commentario di Gershonide all'epitome del De Anima di Ibn Rushd lui diceva Ibn Rushd ha avuto un'evoluzione in due tappe prima la posizione appunto dell'epitome in cui l'intelletto materiale è legato alle forme immaginative cioè alla capacità che ha l'uomo di cominciare ad astrarre dai dati sensibili io vedo questo libro ma quando non lo vedo più i colori gli accidenti materiali incominciano a sbiadire questa è l'immaginazione certo proprio di banalizzarmi in questo modo quindi inizialmente Gershonide dice la posizione è in due tempi c'è questa posizione legata all'epitome che è quella che vi ho spiegato l'intelletto materiale come predisposizione delle forme immaginative e poi c'è questa posizione del commento medio che lui Gershonide riprendendo il modo in cui Averroè ne parla dice è una posizione intermedia tra Alessandro e Temistio perché a un certo punto del testo Averroè dice io ho considerato le posizioni dei due che sono i suoi grandi dioscuri Alessandro e Temistio mi è parso di dover prendere un po' come facevano gli eclettici un po' di qui e un po' di là e quindi questo è ciò che dice nella nella invece nel commento all'opuscolo 1 Gershonide si rende conto che lì c'è una posizione ancora diversa quindi è almeno una conoscenza di tre fasi e poi io penso che il mondo ebraico sapesse che insomma c'era nell'aria questa tesi che l'intelletto materiale potesse essere unico perché viene ricordata l'obiezione classica a chi pone l'unicità dell'intelletto materiale è un'obiezione che già Averroè si faceva e che viene riproposta anche nel mondo ebraico se l'intelletto fosse unico e dovrebbe essere unico perché è eterno perché è l'interfaccia dell'intelletto gente ma allora si dicono se io conosco una cosa anche tu devi conoscerla e se tu dimentichi una cosa anch'io devo dimenticarla quindi questa obiezione circola e viene ricordata tra l'altro la Gersonide anche nelle Guerre del Signore che è appunto l'opera che Francesco ha avuto la gentilezza di ricordare e l'opera fondamentale di Gersonide quindi concludendo io direi al di là del fatto che non sono riuscito a leggere una slide perché preferisco seguire un corso di pensieri direi pochi punti sono questi appunto che l'immagine di Averroè che esce dalla tradizione ebraica è un'immagine molto più mossa e anche molto più appassionante addirittura io grazie a Gersonide ne sono innamorato non essendomi occupato mai così di questo pensatore in maniera anche forte ma ho iniziato un po' con studiare lo studiare Maimonide e poi mi sono occupato di questo tema della creazione eterna ma la cosa interessante che Averroè è tutt'altro che il pensatore sistematico dogmatico che lo si vuole rappresentare a un certo punto un testo molto noto nel commento grande lui dice guardate fratres cioè compagni quasi in senso politico cari compagni dice io a questo momento sono arrivato a questa tesa ci ho pensato tanto lo dice anche in altre opere dopo una lunga ricerca per dire che è davvero la sua ossessione e questo è ciò che adesso io vi direi su questa cosa se voi avete altre cose please let me know cioè comunicatemelo insomma e quindi è una cosa una cosa interessante c'era ancora qualcosa che volevo dire come ultima sofferenza ma mi è mi è scappata quindi non so e poi magari nel corso della bene vi ringrazio della pazienza data l'ora date anche le modalità grazie a te qui anche c'è il grande inquisitore mi ha detto di fare il direttore del praffing allora aspetta però abbiamo io aprirei immediatamente non sto a girare la telecamera tanto mi sentite aprirei immediatamente il dibattito abbiamo una buona mezz'ora mezz'ora 35 minuti insomma abusando ancora della gentilezza di Roberto Gatti e della sua dottrina abbiamo molto apprezzato e quindi chiedo subito se ci sono degli interventi io una curiosità ce l'avrei ma allora lo dico subito insomma cioè è più una considerazione a margine in limine a quello che tu hai detto diciamo suggestionato dal riferimento a Borges che hai fatto che ho trovato molto molto interessante e pertinente perché effettivamente borghesianamente potremmo dire che quello che ci hai illustrato è anche un esempio come dire di biblioteca infinita non solo di gioco c'è in questo gioco degli specchi c'è anche come dire una sorta di biblioteca infinita che ci aiuta moltissimo a uscire anche da certi stereotipi interpretativi storiografici non solo certamente su Averroè che è il gran commento fio ma lo stesso Aristotele cioè fondamentalmente tu ci hai mostrato mi pare di poter dire una ricchezza una parabola di di interpretazioni di commenti e super commenti commenti dei commenti rispetto ad una tradizione quella aristotelica di cui evidentemente all'epoca non si aveva per le mani una ampiezza di fonti anche lì si ragionava su quello che c'era o su quello che man mano si riusciva a trovare ma anche noi oggi abbiamo l'illusione in qualche modo di avere dei testi stabilizzati di avere una tradizione stabilizzata e in qualche modo lavori come il tuo invece ci obbligano a ritornare indietro sulle convinzioni diciamo di una tradizione consolidata e a rimetterle in gioco no ecco perché dicevo oltre al gioco degli specchi c'è anche quest'idea in qualche modo di una biblioteca infinita di libri ancora di libri ancora ancora sempre da scrivere e riscrivere insomma di epitomi da 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 riscrivere insomma e questo mi sembra un aspetto metodologicamente interessante e affascinante ecco che ecco perché anche quest'apertura no per cui alla fine da averlo arriviamo a spinozza e poi no e a uno spinozza probabilmente molto come chiamo per fare solo mi senti di liceo fanno così no ma non lo so forse se tu chiedi se tu chiedi ai nostri studenti hai colto hai colto perfettamente guarda non in realtà hai detto benissimo le cose sì c'è questo gioco di rispecchiamento è chiaro erano autori mossi da da un intento oggi diremmo teoretico non è un intento di ricostruzione storiografica quindi per loro Aristotele andava letto già con un commento non avevano l'idea di recuperare l'Aristotele perduto o il Platone perduto e c'è una famosa lettera di Maimonide in cui raccomanda questo famoso Shmuel ibn al-Hibbon il traduttore gli dice guarda che Aristotele lo devi studiare con i commenti e gli cita Alessandro Temistio quindi gli stessi autori Al-Farabi per le opere logiche e dice le opere di Averroè quindi il grande tema anche della possibile conoscenza o influsso che Averroè ha esercitato su quest'altro campione come ricordavi Irene del pensiero ebraico Maimonide come sapete contemporaneo di Averroè e quindi c'era questa idea l'autore e il suo doppio cioè sì è chiaro che noi dobbiamo appunto leggere non dobbiamo pensare di come dire non dobbiamo chiedere a questi autori a questi autori medievali un'interpretazione storiografica però siamo costretti a leggere a vedere gli autori antichi con i loro stessi occhiali altrimenti non li capiamo pochissimo da quello che ho capito sentivano gli autori medievali arabo ed ebraici arabi ebraici il tema della differenza di fede è chiaro che ti si rendevano conto che c'erano problemi poi naturalmente uno potrebbe dire sì ma dai cosa ci racconti al Gazzali e uno che polemizzava giusto ma gli aristotelici cosiddetti ortodossi come Maimonide come Averoe si rendevano conto che Aristotele sosteneva l'eternità dell'universo però erano convinti comunque che Aristotele fosse l'espressione più alta della ragione e anzi è una cosa che ad esempio è bene tenere presente il primo aristotelico per Maimonide scusate se adesso la Averoe è passo a Maimonide ma erano conterrani sapete Cordoba ci sono quelle belle statue a Cordoba dei due tra loro vicini quindi insomma è lo stesso humus è questo mondo islamico che parla ebraico che parla arabo che ha queste religioni ma il primo aristotelico stavo dicendo per Maimonide è Abramo quando una cosa interessante quando in un'opera Maimonide presenta i motivi della conversione di Abramo che rompe con idolatria e si converte lui cioè con il passo della sua ragione al Dio che poi diventa Dio di Israele ma lo fa è una cosa interessante sulla base di un ragionamento aristotelico cioè Abramo secondo Maimonide avrebbe capito che poiché i corpi celesti sono finiti e hanno però una forza perpetua di movimento questa forza perpetua deve provenire da un motore immobile spirituale e che pur a follia immaginare che un semita come Abramo ragionasse in questi modi però ci credono quindi per dire che la filosofia per questi autori non è solo uno strumento greco è uno strumento di Abramo c'è una disposizione naturale dell'uomo alla filosofia e quindi se si è colto benissimo un gioco di rispetto ecco no niente poi quello che volevo finalmente dire è una tesi molto nota la cosa affascinante dei testi di Averroé è come noto perché sapete benissimo che adesso è in corso tutta una rivettura ad opera soprattutto dei francesi quali magari hanno questo retroterra la critica del soggetto c'è tutta un'opera di rivettura di queste tesi di Averroé l'esponente più noto è stato tradotto anche in Italia è Brené che ha scritto un libretto che è stato tradotto da Carocci Averroé l'inquietante che con uno stile tipico dei francesi riesce appunto a identificare il carattere inquietante di Averroé che fondamentalmente è la tesi non sostanzialistica della persona umana cioè che è la tesi spinoziana poi è chiaro che i francesi sanno presentarlo con quella scrittura affascinante lui ti cita ti cita appunto Freud il perturbante questo però è il grande motivo ma guardate che in realtà è la stessa cosa anche in Maimonide la cosa si riflette poi sul problema della sopravvivenza individuale dell'anima ma allora esiste un'individualità della sopravvivenza è la critica che fanno i teologi anche dell'Islam a Gazzali i filosofi negano la resurrezione della carne ma in realtà non possono affermarla come dato definitivo Averroé difende la tesi della resurrezione dei corpi ma non è ma bene non mi pare non è una posizione non è una resurrezione definitiva perché l'intelletto l'anima la parte più nobile l'intelletto non è legata all'individuazione del corpo quindi la tesi è che la tesi di questi autori per riprendere anche questo tema la felicità mentale è una felicità certo che se noi partiamo dall'idea che la felicità è benessere e quindi non so una tesi picurea la felicità si identifica col piacere non capiamo questi autori no la felicità è la conoscenza universale e mi è capitato una volta di accostare questa cosa alla teoria di Popper dei tre mondi e poi naturalmente mi è stato detto sì ma guarda che Popper giustamente non ha scoperto l'acqua l'acqua fredda nel senso che c'era già per esempio c'erano già le discussioni di Husserl che andavano in questa direzione cosa dice Popper guardate che esistono tre mondi c'è ci sono il mondo il mondo degli oggetti fisici che per Aristotele e per Adleroè sono le forme materiali quindi questo libro ha un'essenza internata nella nella materia io lo vedo lo tocco lo percepisco lo immagino poi esiste anche un livello soggettivo no cioè dai corpi io ho tutta una serie di forme che la mia mente raccoglie e poi però esistono i concetti e lo stato puro quindi la felicità mentale consiste nell'immaginare questo questo mondo di verità universale poi naturalmente si può dire sì ma allora ritorniamo nuovamente a Platone però insomma l'individualità dell'anima è un tema che è un tema cristiano cartesiano poi Gitorgo Sum ma non non ha un senso per questi autori io sono faccia aspettare se c'è qualche altra domanda ti giro la telecamera così le persone a casa vedono vedono quanto siamo attenti e specializzati esatto sì no allora mi sembra che siccome questo tema che affronti appunto a questo grande fascino della traslazione su di orm dentro di sé no cioè c'è talmente tanto da dire sulle fondate di traduzioni che appunto il passaggio dall'arabo al latino e le traduzioni anche in ebraico che forse abbiamo sacrificato un po' il ruolo di Gersonide sì sì io volevo capire allora questa cosa della vegetamentale mi interessa molto no ovviamente come sai ma alla fine nell'averoismo latino siamo arrivati a dire che quando almeno fioravanti e bianchi sono arrivati a dire che quando in quel famigerato convegno che quando i nostri commentatori occidentali latini dicevano conosce sostanzialmente separato di Dio era una formula ripetitiva in cui nessuno credeva non c'era un vero questo fioravanti che lo dice una formula e non si sa non ci spiegano che cose in realtà conoscono quindi questa che poi la Maria Corte ha chiamato felicità mentale è qualcosa che non ha una consistenza dottrinale non sappiamo in cauda venenum no ma è perché la percezione di queste cose è se c'è invece effettivamente così nei commenti all'etica nicomachea non c'è altro che questa formula conoscere le sostanze separate Dio altri autori spiegano un po' un'ascesa diciamo conoscitiva tanto che si capisce che è un po' come conoscere gli strati ontologici della realtà fino ad arrivare all'essere sommo il mondo 3 il mondo 3 di pop però quello che ti volevo chiedere è due cose quindi se Gersonide sostiene che esiste questa felicità mentale e che cos'è per lui e l'altra domanda è se l'intelletto acquisito che adesso da studi che tu conosci senz'altro ultimamente è diventato un po' l'intelletto divino come lo chiama Alberto Magno e ora un po' parliamo tutti di questo intelletto acquisito come se fosse lui il deputato alla felicità mentale vorrei chiederti in Gersonide come si svolge questo ok dunque una bella questione allora cominciamo magari con quello che consente magari di avviare il motore allora sul tema dell'intelletto acquisito Gersonide pensa che sia la fase più alta della conoscenza umana cioè quando la mente umana è in grado di sostanzialmente di vedere le cose dal punto di vista dell'intelletto agente cioè è il momento in cui la conoscenza umana perde i riferimenti alla realtà materiale diventa un mondo di 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 essenze di essenze ideali è chiaro che tu mi puoi dire giustamente che cosa vuol dire concretamente non vuol dire che che esistono le idee platoniche cioè Gersonide parla di contenuti mentali che sono presenti nella mente dell'intelletto agente e quindi è un modo di di rapportarsi da parte dell'uomo alla realtà diverso rispetto alle forme materiali e è un po' come quando cioè bisogna evitare così il rischio di 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 non farne una sopravvivenza ultraterrena è un po' come quando adesso non vorrei rispondere all'oscuro per obscurum con qualcosa ancora di più oscuro obscurius ma è un po' come quando anche Spinoza dice che la conoscenza di terzo livello passa attraverso l'essenza del corpo quindi non sta dicendo che pensa a delle nozioni platoniche astratte no ma è un modo diverso di di vedere la realtà in cui il filosofo vive e Garçonide ci crede tanto è vero che dedica il primo libro delle guerre a questo tema cioè e soprattutto insiste su due cose sul fatto che l'intelletto acquisito l'intelletto acquisito normalmente si parla di tre o quattro intelletti no non ci facciamo mancare nulla ci sono i due grandi è come in un teatro filosofico il 600 elisabettiano entrano in scena due grandi attori che sono i protagonisti quello agente e quello materiale poi però ci sono dei gradi intermedi c'è un intelletto che viene chiamato l'intelletto in in abitu cioè l'intelletto che è già acquisito nell'uomo già è stato acquisito in abitu e poi c'è questo intelletto invece acquisito che che è l'ultimo stadio quindi Garçonide crede molto a questa cosa cioè l'intelletto acquisito rappresenta la fase ultima della conoscenza umana per quello che cercavo di indicarti cioè un modo diverso di vedere le cose e l'altra cosa cioè non so nemmeno se ho detto la prima sono due le cose che lui fa presente Garçonide a proposito di questo intelletto acquisito che è individuale anche qui uno potrebbe dire ma caspita stai cadendo in contraddizioni come fai a sostenere a che l'intelletto acquisito consiste in una conoscenza di enti astratti o separati cioè immateriali e b come fai a sostenere dall'altra parte che l'intelletto acquisito è una realtà individuale e lui ne parla però Garçonide nel primo libro delle guerre come di raccolte di intellegibili che hanno prospettive diverse che cosa voglia dire io non ho capito ma naturalmente non mi viene in mente la monade di Leibniz sempre obscurum per obscurus la monade di Leibniz è la capacità di guardare una stessa cosa da più prospettivi quindi la sopravvivenza individuale sono le prospettive che le monade hanno sulla stessa città e l'altra cosa a cui lui tiene molto è scardinare il principio restotelico secondo cui tutto ciò che si genera è destinato a corrompersi che Davito ha uno dei capitoli più difficili non so se l'ho tradotto correttamente l'ho ripreso in questi giorni delle guerre perché il problema è che se l'intelletto acquisito si genera questa è l'idea fondamentale secondo questo assioma aristotelico del deceno dell'opera di Aristotele è destinato anche a corrompersi ma allora va a farsi nuovamente friggere l'ipotesi dell'immortalità individuale e soprattutto ragione l'ultimo alfra che diceva che sono tutte fantasie di donne vecchie questa congiunzione tra l'intelletto materiale e quella gente e lui scardina questo assioma adesso non mi chiedete di ripercorrere il percorso e quindi sono queste due cose non so se capisco che la tua obiezione ha altro forse tu mi stai chiedendo anche se davvero il tema appunto anche per averlo è ho capito poi ne parliamo e mi interessa molto se sei tempo ho capito nei commenti latini o presente anche gli articoli a cui ti riferisci tu dici ma siamo davvero sicuri che in in averlo è questa tesi ci sia della felicità mentale perché era una posizione rischiosa se un filosofo arabo sosteneva che la felicità passa attraverso la filosofia magari sottintendo solo attraverso la filosofia cadeva poi nelle ire dei teologi e allora quello che appunto posso dire anche se non sono uno studioso in erba di averlo è ma il tema dell'intelletto acquisito non c'è nel commento grande e se uno legge il commento 36 non ha questo tema dell'intelletto acquisito quindi c'è ma al tempo c'è questo dubbio ma siamo così sicuri che la felicità mentale sia importante per i filosofi ebrei per gli arsoni dell'ore ho cercato anche di farvi vedere i motivi per cui lo è però insomma indubbiamente anche in avvero è c'è questo tema però probabilmente non passa attraverso il tema dell'intelletto acquisito quindi l'intelletto acquisito invece è presente in alfarabi ma in avvero è ho l'impressione che cioè per concludere l'uomo è già eterno paradossalmente non ha bisogno ha bisogno solo di riconoscere ma non ha bisogno di diventarlo lo è già un po' come per Spinondo la realtà è già eterna tu devi riconoscere ma non devi diventarlo grazie io non ricordo la stereografia sì sì la prima non sentivano un modo così forte grazie di questo che volevo sapere al suo video insomma quanto questa consapevolezza più o meno inscrito a teologizzare o deteologizzare Aristotele anche in relazione all'interpretazione di Aristotele cioè scusa cosa intendi teologizzare o deteologizzare trasferire come? alcune categorie si pensiamo nell'interpretazione di Aristotele il grande rischio è quello di neoplatonizzare non di platonizzare ma neoplatonizzare Aristotele cioè il rischio di vista storiografico che corrono è questo cioè romanessia è il fatto che ad Aristotele viene attribuito un'opera fondamentale soprattutto per il mondo orientale arabo, al kindi e altri autori come la teologia di Aristotele che in realtà viene intesa come un complemento della metafisica di Aristotele ma che in realtà è una raccolta di passi di Plotino e di Proclo Plotino pare che gli arabi non lo conoscessero o a volte lo confondevano con Platone anche dal punto di vista della grafia e dei termini quindi il grosso rischio è quello ciò che dicevo prima non dobbiamo guardare a questa interpretazione come un'interpretazione riproponibile oggi però è il modo in cui loro li legano e poi sai c'è soprattutto questa cosa come dicevo prima molto interessante la filosofia è una disposizione naturale dell'uomo e tanto è vero che non solo l'esempio di Abramo ma anche la guida dei perplessi di Maimonide si apre dicendo che l'intelletto è l'immagine di Dio nell'uomo quindi il verso di Genesi 1 Genesi 1 sono le cose più quali capito all'inizio Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza in realtà quell'immagine e quella somiglianza è l'intelletto stesso quindi c'è questa idea della neutralità dell'intelletto che predispone alla fede ma non è la fede stessa e c'è questo assioma che si trova ci sono diversi assiomi due e primo dice accettare la verità da qualunque parte provenga che è una frase che si trova in Alchindi si trova in Maimonide e poi c'è l'altra frase qui così anche c'è questo riferimento scontato la teoria della doppia verità la verità non contraddice a se stessa quindi la verità come dice Spinoza veritas non ripugnat veritat anche qui è un tema che non è affatto vero che sostenessero una doppia verità anzi sostenevano un'unica verità che è quella razionale con problemi notevolissimi non voglio dire che c'è poi il problema dei miracoli il problema anche della rivelazione com'è possibile che Dio si rivedi sia un'entità spirituale o se invece è già presente nell'intelletto dell'uomo quindi hanno avuto tutti questi problemi interpretativi però appunto c'era questa idea che la verità non contraddice non porta contrasto alla verità grazie allora non so se c'è qualche continuiamo se ci sono interventi da remoto da casa sì io se posso buonasera volevo solo chiederle mi ha appunto incuriosita molto proprio all'inizio quando ha citato vabbè è il titolo anche insomma di questa di questo incontro quindi il concetto di specchio dell'intelletto dell'intelletto materiale come specchio quindi in sostanza la riflessione è che lo specchio è qualcosa che riflette quindi non intanto non produce e non riflette mai se stesso quindi appunto vedo non so se è corretto però una sorta di frattura tra il soggetto e l'intelletto stesso a questo punto e mi chiedevo se potesse dirmi qualcosa di più a riguardo perché appunto io non sono certamente un'esperta però questa idea si occupa se posso di cosa si occupa? io mi occupo di etica della cura e pensiero ecologico una nostra dottorenda ottimo ottimo sì sì e quindi sì il tema il tema che 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 la razionalità è una forma di vita no? almeno io lo traduco così facciamo parte della biosfera sono tesi affascinanti no no è accolto benissimo la dissociazione è quella tra soggetto e intelletto l'idea che l'intelletto non è ciò è l'idea fondamentale che non posso dire io penso è l'idea fondamentale che qualcosa si pensa in me attraverso le mie immaginazioni quindi è la distruzione del primato del soggetto dell'anima come entità spirituale quindi c'è questa idea appunto non sono io che penso è l'oggetto che si pensa attraverso attraverso me e quindi sì l'idea dello specchio indica indica bene questo cioè non indica solo il tema dell'oggettività della conoscenza il fatto che l'intelletto non deve distorcere cioè deve essere uno specchio pulito ma indica anche il fatto che il compito è quello di riflettere non quello di dire io e qui poi si passa anche alla posizione secondo cui appunto l'uomo è un modo di un'unica sostanza eccetera eccetera grazie abbiamo altri interventi ancora oppure riservo per la cena riservo per la cena insomma ok no anche a me mi dimentico ma poi dopo no non ci sono problemi solo una battuta una battuta anche qui sull'onda un po' dell'analogia visto che c'è Davi Spinoza allora c'è un tema che poi è il tema poi a cui approda l'ultimo la metafisica aristotelica che è il tema dell'amore il primo motore come oggetto d'amore come os e romero no allora questo tema della dell'intelletto potrebbe essere letto l'intelletto come amore la mente innamorata la mente innamorata il tema io devo dire il titolo dell'intelletto d'amore il famoso titolo anche dell'opera di Agamben di Brené adesso non ricordo più c'è un altro una bella opera perché è legata anche al testo tocchi un altro problema nel senso che da una parte gli affetti nella tradizione aristotelica sono legati alla facoltà appetitiva non a quella razionale quindi fanno riferimento anche a dall'altra però appunto Dio è oggetto di amore quindi è un problema nel senso che qui appunto in proprio offerto quello che si dice l'assist c'è tutto il tema non solo di Spinoza che è un riferimento immediato l'amore intellettuale di Dio cioè il problema che tu poni è appunto può essere una forma di sopravvivenza sì ma crea problemi perché la psicologia di Aristotele non è così collegata al tema degli affetti però dall'altra parte c'è questo tema di Dio oggetto d'amore tanto più da parte della realtà inanimata poi c'è il tema anche in Maimonide tra l'altro pare che Spinoza almeno secondo studiosi israeliani pare che Spinoza anche lo abbia derivato l'amore intellettuale di Seida maimonide io adesso non ricordo il commento grande alla metafisica di Averroè su questo tema dell'amore Dio come oggetto d'amore il linguaggio di Averroè e di Gersonide è tendenzialmente molto scientifico molto rigoroso una volta sola un'impressione se ricordo bene che Averroè si illumina e allora lì diventa un poeta ed è se ricordo bene proprio nel commento 36 quando dice l'ho citato anche come exergo della traduzione il commento 36 in cui dice quanto è mirabile e straordinario questo modo di essere in cui l'uomo diventa Dio e dice come dice Temistio quindi fa riferimento a questo tema allora lì voglio dire che c'è il tema dell'affettività cioè la filosofia che si esprime anche attraverso gli affetti ma normalmente anche per Gersonide anche per Maimonide il tema è molto rigoroso tranne appunto per Maimonide l'ultimo capitolo della guida dove c'è a partire da uno degli ultimi insomma c'è il famoso castello che poi è ripreso da altri autori e c'è questo tema dell'amore intellettuale ma normalmente il rigore fa pensare che l'affettività venga vista un po' così con sospetto anche se poi in effetti c'è un amore verso Dio anche in Aristotele grazie grazie